Oltre 2.000 clienti e 550 soci con più di 100 milioni di euro di fondi intermediati e un rapporto di reinvestimento nel territorio comunale di Colli al Metauro pari al 78,7%. Sono alcuni dei numeri che inquadrano la nuova agenzia Bicicifano di Calcinelli, inaugurata mercoledì 26 luglio al piano terra della palazzina in via Manzoni 1, a pochi passi, dalla vicina piazza a Piofranchi dei Cavalieri, dove l'istituto di credito era operativo fino a pochi giorni fa. Un'agenzia storica per l'istituto di credito ha detto il presidente Romualdo Rondina perché in ordini di tempo si tratta del sesto presidio aperto sul territorio, era il 1995, a dimostrazione che la banca ha sempre nutrito un profondo e proficuo rapporto con il territorio di competenza e con la comunità. Siamo lungo la Flaminia e poi con tanti locali, possibilità quindi di attività di consulenza, ciò che non era possibile nella vecchia sede, quindi sicuramente maggiore attenzione per il territorio, comprendendo nel territorio anche il comune Saltara e quindi Bali, perché qui dietro abbiamo il Bali, quindi sicuramente un riferimento storico importante per questo comune. Numerose le personalità che non hanno voluto mancare all'inaugurazione, dopo la benedizione dei locali da parte del vescovo Andrea Andreozzi e del parroco di Calcinelli Don Matteo Pucci, la cerimonia è proseguita con il saluto del sindaco Pietro Briganti e il benvenuto dei vertici della banca. È un territorio molto vivace, il comune di Colli al Metauro, con insediamenti produttivi importanti e anche la presenza di famiglie e anche giovani, quindi la banca guarda al futuro cercando di dare un servizio qualificato, un buon mix tra innovazione, consulenza e operatività tradizionale. L'agenzia l'abbiamo aperta lunedì mattina, quindi già lunedì mattina siamo stati operativi al 100%. L'organico è composto da quante persone? L'organico è di 5 persone, io titolare, vice, due sportelli, due sportellisti e responsabile titoli. Un ATM H24 operativo? Una nuova macchina operativa, l'ATM Evoluto, che ci permette di fare versamenti alla clientela anche fuori dall'orario di sportello, attivo 24 ore su 24, un'area self dedicata, dove il cliente può in sicurezza fare versamenti e prelevamenti a qualsiasi ora del giorno. L'inaugurazione dell'agenzia è stata anche l'occasione per presentare il volume Calcinelli, la storia e le storie a cura di Alfio Magnesi ed edito con il sostegno di B.C. Cifano, uno straordinario album di famiglia di oltre 300 pagine e tante foto inedite dove i protagonisti si sono raccontati da dentro. È la storia di un paese fatta con la storia di tante persone che lo hanno abitato. Il piacere è stato di incontrarli, di entrare nella loro intimità e di ricevere molto più di quello che hanno dato, perlomeno dal punto di vista personale. Ne sono estremamente soddisfatto e mi sono un po' riappecificato con questo paese che non pensavo di conoscere così approfondito. Questo libro dove lo si può recuperare, Alfio? Dunque, il libro oggi è stato dato ai presenti e penso che da domani sarà disponibile nella banca per chi lo vuole apprendere, sia che sia cliente oppure no.